Dove mettiamo il limite? Martina Colombari condivide il post di un volto noto della rete Tra le righe, il riferimento al rapporto con il figlio Achille Costacurta Martina Colombari torna sui social, ma stavolta nessun post e nessuna replica La showgirl, reduce dall'ennesima bravata del figlio Achille Costacurta, condivide nelle ultime ore il post di Marco Montemagno in cui l'esperto di social network esprime la propria circa il caso che ha coinvolto la piattaforma Telegram Nel post Montemagno parla di limiti e responsabilità e ai più sorge il sospetto che la Colombari possa avervi letto tra le righe qualche riferimento alla vicenda legata al figlio Achille sarebbe stato infatti bandito da Instagram lo scorso luglio a causa di alcune stories scompromettenti e si sarebbe fatto di nuovo vivo su TikTok sfoggiando una dentiera in diamanti del valore di 3 milioni di euro Il caso Telegram e la riflessione di Montemagno sarebbe quindi per la showgirl uno spunto di riflessione strettamente legato agli avvenimenti che hanno coinvolto Achille Costacurta Non sappiamo quanto i social e le piattaforme citate da Montemagno abbiano influito negativamente sulle azioni del giovane Costacurta a causa dei pochi limiti e restrizioni imposti dalle stesse piattaforme ma certamente essere stato bandito da Instagram non ha migliorato la situazione di Achille Costacurta che ancora oggi, stando ai recenti rumors, sarebbe filo da torcere alla famiglia Grazie 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 a tutti.